Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Non ti piace? No dai scherzo Hai qualcosa contro i veribunni? Ok, grazie pezzo, grazie mille Risponsabilità per il mio gatto ma un figlio chiaramente ti dà una responsabilità che un animale magari ti dà un po' di meno, no? Sì vabbè quello sì Hai lanciato il gatto Sì vabbè ma... No no era vero, è stata una scena ridicola Arriviamo a 10.000 sub lo faccio, ok? Se arriviamo a 10.000 sub lo faccio Volevo fare la scommessa stasera, l'avevo chiesto anche a Martina Che se arrivavamo tipo a 7.200 sub domani facevo la live Andavo da Martina a Parma e facevamo la live assieme Però Martina non può Grazie Tokyo Grazie microfono spento Grazie Mattia Bella madonna Con la copertina tra l'altro Ok? Sì perché lei ha detto a mettere la felpa Rialzati di colpa e ricomincia la discussione come se niente fosse Tutto a posto, rialzati di colpa Due nel senso Me devo rimettere un attimo che Alice Aspetta un attimo Mi rimetto la felpa che effettivamente Alice qua il problema che c'è è che i sordi girano pochi Ok ora usare anche la parola lì diventa problematico dal punto di vista culturale Anche se linguistico non ha niente di male quella parola Perché è una parola che semplicemente viene tradotta in italiano con nero È una parola di origine latina quindi per sé è neutra la parola Però culturalmente ha acquisito questa accezione negativa Per sé no Sul discorso di Maria Sofia e Andrea Per concluderla Che immagino che entrambi abbiate appunto a cuore che ci sia rispetto per tutte le persone Maria Sofia ha proprio questa attenzione nel dire Dobbiamo stare veramente attenti Luca e Pippi come modellatori nelle live Eh dovevano sceglierne uno ho scelto Luca Perché comunque è un po' un pilastro Grazie Max Grazie Claudev Grazie mille Allora ma torniamo alla puntata di oggi Di Royal Show of Vi ripeto non ci sarà Giudone Ma ci sarà il ritorno di Max Oggi le coppie sono belle e pesanti Il Don mi ha promesso che sia veramente impegnato Quindi Oh prendetevela col Don Ha fatto tutto lui la questione coppie Quindi colpa sua Tra l'altro oggi volevo Come male? No scusami il secondo Buonasera Guarda che Dato che Green ha detto quella cosa della macchina Cioè anche io mi sono proprio immedesimato nella cosa Allora ti aspetta che lo faccio anch'io Allora vado al massimo Puff Allora mi sono proprio immedesimato Guarda qua così Proprio Fa proprio ridere Cioè su disco si stanno proprio spaccando le ridate Non ci crederai Normalamente stanno spaccando le ridate Ogni tanto No no Non avevo capito Mi piace Il bestemmia Mi piace E porco dio Grazie Dieta Tiana Come va? Come va? Bene Prova a cliccare Scusa Prova a cliccare Sul Settings Propriamente Estroversa Forse Ma che va in realtà a toccare delle cose molto molto introspettive Tu quando eri più piccoli Tu quando eri più piccolina no? Ciao Mouad Grazie Ciao Mouad È della mia chat Ah Ciao Ti seguivo ovviamente già Sette mesi guarda Ok Però è un top shot Vabbè vai avanti Vado avanti Vado avanti E quando eri più piccolina Tu eri la classica che nelle storie metteva dcp voto di cosa penso? Ma tra l'altro vivi in un garage? Cioè Tesso come chiama la persona vicino a te? No! Come chiameresti lei? Vabbè Ti fai capire tutto insomma Allora All'inizio Piccola All'inizio Poi dopo Si fa un po' più Diciamo Affiatata la cosa Ehm Non so Troia Bocchina Eh Dai Sopra i 14 dai il consenso eh No no ma sotto i 14 è meglio però dai Cioè 19 anni è troppo grande Greenbound Ah ok ok Io vado da 14 in giù Ok ok No vabbè era per capire Era per capire Infatti